Bentornati, vi ricordate la canzone di Daniele Silvestri, salirò, salirò, adesso non dico fino a quando sarò solo un puntino lontano, perché quello magari ci arriveremo poi col tempo, però il nostro obiettivo è quello di salire, quindi di ritornare verso l'alto a prenderci le posizioni che ci competono e questo weekend sarà molto importante, sarà molto importante perché oggi si giocano due partite che per noi potrebbero essere decisive, cioè quella dell'Atalanta con il Genoa alle 15 e quella della Juve con l'Inter alle 18, dalle quali ci aspettiamo buoni risultati e magari ci aspettiamo di poter forse anche già festeggiare la Champions, perché se la Juve dovesse perdere, adesso abbiamo passato tutta la settimana a fare conti, ma in realtà se la Juve dovesse perdere e l'Atalanta dovesse vincere a quel punto saremmo qualificati in Champions League, quindi noi dobbiamo tifare per i nerazzurri oggi sostanzialmente, dobbiamo fare un'opera di sacrificio per qualcuno, e tifare i colori nerazzurri, perché già da questa sera potremmo essere in Champions League, il nostro obiettivo ed è un obiettivo al quale si lega poi anche ovviamente il nostro futuro, futuro di prestigio per ritornare a giocare la nostra Coppa e poi anche futuro di mercato, oggi ci sono degli approfondimenti interessanti sulla Gazzetta dello Sport che parlano della rivalutazione di alcuni giocatori e poi delle prospettive di mercato, del Cagliari parleremo domani, oggi vediamo un po' che cosa succede e poi domani approfondiremo il tema della partita, se sarà ancora una partita decisiva per noi. Il tema delle rivalutazioni è un tema interessante perché si parla nello specifico di Teo, si parla di Frank e Si che sono due dei simboli di questa rinascita rossonera, uno era stato preso molti anni fa, diversi anni fa ed era stato preso come uno dei migliori centrocampisti sulla carta cosiddetti box to box, cioè l'inserimento di corsa da un lato all'altro del campo della Serie A dopo una buonissima stagione con l'Atalanta e si era ritrovato invischiato in un Milan che aveva tanti problemi, che aveva problemi di allenatore, che aveva problemi di identità, che aveva problemi anche perché quando cambi tanti giocatori è inevitabile che per trovare l'intesa ci vuole tempo, se dai tutto in mano a un allenatore che è anche un po' in confusione la cosa diventa difficile e richiede ancora più tempo. Poi anche con Gattuso, diciamo che l'esperienza di Frank al Milan nel 4-3-3 che è stato per lungo tempo il nostro modulo di riferimento non è stata molto positiva, seppur Frank abbia sempre garantito presenza, abbia sempre garantito minuti, anche dei gol tutto sommato, ma non era mai emerso con quelle qualità che si erano viste a Bergamo e che ci avevano fatto pensare a un centrocampista moderno, un centrocampista appunto di incursione che poteva dare una mano alla fase offensiva. Adesso nel Milan di Pioli, nel Milan del 4-2-3-1 Frank ha trovato totalmente la sua dimensione, permettendoci di capire che la situazione di un calciatore è molto delicata, cioè non è detto che un calciatore in un determinato contesto funzioni sempre, a meno che non sia un fuoriclasse assoluto, allora lì hai più certezze che la cosa possa accadere, ma se si tratta di un giocatore che va ancora formato, se si tratta di un giocatore che va inquadrato, ecco che o ha la fortuna di inserirsi subito in un contesto che lo esalta, altrimenti la cosa potrebbe richiedere più tempo, potrebbe essere più difficile, più lunga, potrebbe anche addensare delle nubi sopra il giocatore e far credere che possa essere sacrificabile. Poi dopo è chiaro che per lui come per tanti altri è innegabile che il Milan non riusciva ad arrivare in Champions League, non giocava bene, non faceva risultati ed è ovvio che si possa pensare che magari qualche giocatore possa andare via così a cuor leggero, ma è normale, è normale perché nessuno di noi ha la sfera magica, nessuno di noi può sapere. Se poteva sapere che un giorno sarebbe arrivato un mister, sarebbe stata costruita intorno a una squadra che avrebbero esaltato le qualità di tanti giocatori, perché poi non è solo Frank, pensiamo anche alla crescita di Calabria, ecco tanto per dire un altro che tutti noi volevamo fucilare al muro, quindi ci vuole anche un po' di fortuna e bravura da parte di chi deve architettare la squadra. Quindi la grande rivalutazione di Frank nasce dalla capacità di metterlo al posto giusto nella squadra giusta e poi lui all'interno di questo sistema è cresciuto tantissimo da un punto di vista di personalità, da un punto di vista di predominanza fisica, atletica, tecnica, è cresciuto veramente, veramente tanto. Non che la tecnica gli fosse mai mancata, però diciamo che anche da questo punto di vista ha lavorato tanto per riuscire ad essere un centrocampista non solo di rottura ma anche e soprattutto di costruzione, no? Oltre al fatto che dal dischetto insomma la mette quasi sempre. L'altro giocatore è Teo Hernandez, è stata una scelta azzeccata, possiamo dirlo adesso dopo due stagioni di Maldini, perché seppur con alcuni limiti che vanno corretti non perché in senso assoluto debba diventare il più forte difensore del mondo, ma perché ci sono dei momenti nei quali la condizione cala e devi essere bravo a saper fare anche il difensore, magari a spingere meno, però è chiaro che è una risorsa sulla fascia sinistra che porta gol, che porta anche entusiasmo nella manifestazione della sua azione, che però ripeto riesce bene quando è in condizione come adesso, quando magari non può essere al top deve un attimino rivedere, però il ragazzo è giovane e credo che anche per lui il processo di crescita sarà facilitato da questo ambiente che si è creato, da questi risultati che stanno arrivando, perché non dimentichiamoci mai che cosa abbiamo fatto in tutti questi anni, anzi non dimentichiamoci che questa qualificazione alla Champions League, che penso stia per arrivare, può essere davvero un punto di svolta anche mentale per dei ragazzi come ad esempio Chessy, come Romagnoli se rimarrà, come dei giocatori, come Calabria, come quei giocatori che facevano parte di un Milan infruttuoso e che adesso si ritrovano finalmente con la soddisfazione di essere riusciti a far parte e anche a contribuire alla crescita di un Milan che finalmente almeno, dico almeno, ritorna ai Champions League, dico almeno perché naturalmente l'ambizione di noi tifosi rossoneri che tifiamo per una squadra storica è quella di competere per vincere, però ci arriveremo insomma. Quindi discorso di rivalutazione è un discorso interessante e naturalmente poi soprattutto quanto c'è il lavoro della dirigenza, il lavoro dello staff tecnico del nostro allenatore che hanno contribuito a questa rivalutazione, perché è innegabile poi dopo che se i giocatori si rivalutano è perché fanno bene e se fanno bene è perché giocano in una squadra che fa bene, questo è il discorso, è tutto molto semplice, almeno sulla carta diciamo dopo, l'applicazione in realtà è un po' più difficile. Poi dopo c'è il discorso del mercato più che altro dei riscatti di queste cose qua, perché si parla diciamo la Gazzetta dello Sport dà per sicuro il riscatto di Tomori a 28 e poi c'è il discorso Tonali che non si hanno dubbi, però sono comunque 15 più 10 di bonus, quindi già lì se ne va più di un cinquantello, quindi già lì diciamo gli ipotetici incassi Champions previsti tra i 40 e i 50 milioni di euro se ne andrebbero così per il riscatto di Tomori e quello di Tonali. Poi il resto lo deve mettere Elliot, ma naturalmente dopo capite bene che quando si entra in Champions League, ad esempio come si diceva nella live di giovedì c'è tutta una questione di sponsor che poi cresce, perché alcune parti dei contratti con alcuni sponsor sono variabili a seconda che la squadra raggiunga un obiettivo che si è concordato oppure no. Come dicevo nel corso della live la Juventus con Jeep ha una parte variabile che dipende dalla qualificazione alla Champions League, questo è un aspetto importante, quindi potrebbe crescere un po' tutto, perché è vero che il lavoro dei nostri dirigenti è stato un buonissimo lavoro da un punto di vista di controllo dei costi, di risistemazione dei costi, però diciamo sempre che in generale tagliare è facile, far crescere poi il prodotto è molto più difficile. Quindi l'evoluzione di questo Milan che ha tagliato bene, nel senso che anche il discorso dei montingaggi, tutte queste cose qui, sono state fatte bene perché non hanno prodotto una perdita di competitività della squadra, anzi sono riusciti a costruire una squadra competitiva. Quindi questa è stata la grande bravura. Dopo su tutto il resto possiamo discutere quanto volete, che Elliot non è la proprietà ideale, eccetera, eccetera. Però diciamo che questo primo passaggio, che era un passaggio necessario per la condizione nella quale versava il Milan, per non ritrovarci a dover essere condizionati da una situazione che era pessima e che sarebbe potuta diventare davvero preoccupante ai massimi livelli con tutto quello che è successo, con la pandemia, con gli stadi chiusi, tutte queste cose qua. Quindi non potendo prevedere il futuro ci siamo messi in una condizione di relativa tranquillità finanziaria. La tranquillità finanziaria c'è di relativo benessere da un punto di vista di prospettiva e di bilancio. Il discorso poi degli acquisti sarà un tema importante perché io ribadisco la mia idea, non penso che verranno messi 150-200 milioni di euro per il mercato. Quindi anche le aspettative dei tifosi devono essere sempre bilanciate, perché chiaramente io mi aspetto personalmente un centravanti, un centravanti, un centravanti serio, ecco, non mi aspetto Robert Lewandowski, ma mi aspetto un centravanti serio e poi già diciamo col consolidamento della nostra squadra, poi dopo vedremo perché c'è la situazione Donnarumma sempre in piedi, c'è la situazione, c'è l'anogulo da capire, però in questo caso credo che la società sappia come muoversi anche perché nel momento in cui tu poni i paletti e dici oltre questo io non vado, sai già che le cose possono anche andare male e quindi ti tuteli attraverso altre vie. C'è la questione di Belendias, ad esempio si parla di questo ragazzo che è un ragazzo che ha vissuto la sua prima stagione da protagonista, comunque utilizzato in una squadra importante, dobbiamo tenere sempre conto che è un ragazzo del 99, immaginatevi voi dove eravate nel 99 quando nasceva Brian Dias, quindi immaginatevi, molti voi, poi c'è anche qualcuno del 99, insomma, molti di noi nel 99 erano già persone quasi fatte e finite, quindi è un ragazzo giovane, è un ragazzo che comunque ha bisogno di tempo per crescere come uomo, è veramente un ragazzino agli occhi miei, quindi credo che se ci fosse la possibilità di discutere magari un prolungamento del prestito per un'altra stagione, io credo che Brian Dias sia un giocatore che può stare benissimo all'interno della Rosa del Milan, anche perché ha avuto un anno per capire come si sta in Serie A e come si può cercare di far fronte ai suoi limiti strutturali, cioè dettati dal fisico, che però sappiamo, insomma, nel caso in cui la tecnica sia sopraffina, è un ostacolo che può essere facilmente superato. Nella storia del calcio ci sono giocatori svantaggiati da un punto di vista fisico che di questo sport ne hanno scritto la storia. Credo che ci sentiremo in giornata, vediamo come vanno le partite, buon sabato a tutti intanto!